Oggi condivido con te 10 espressioni italiane che devi assolutamente conoscere se vuoi sembrare un vero nativo. Queste espressioni sono comunemente usate nella vita di tutti i giorni e ti aiuteranno a sembrare più naturale e fluente quando parli italiano. Resta con me fino alla fine del video per impararle tutte e iniziare a usarle nelle tue conversazioni quotidiane. Iniziamo con alcune espressioni che sentirai spesso in Italia e che puoi iniziare a usare subito. Magari, magari. Il significato di questa parola è veramente speciale. Può essere usato per esprimere un desiderio o una speranza equivalente a sarebbe bello o lo spero. Può anche significare forse o probabilmente in alcuni contesti. Facciamo alcuni esempi pratici. Magari domani andiamo al mare se il tempo è bello. Ti piacerebbe vivere in Italia? Magari. Hai già finito il lavoro? Magari. Mi manca ancora molto. Prova a usare magari quando vuoi esprimere un desiderio o una possibilità futura. Adesso un'altra parola molto interessante. Bo. Bo. Il significato è equivale a una esclamazione informale per dire non lo so o per esprimere incertezza. Andiamo a vedere alcuni esempi pratici e per favore nota anche l'intonazione perché c'è anche il linguaggio non verbale. che cosa vuoi mangiare per cena? Bo. Scegli tu. Pensi che arriverà in tempo? Bo. Non ne ho idea. Perché Luca era così arrabbiato? Bo. Non me l'ha detto. Non me l'ha detto. Attenzione alla pronuncia alla fonetica. Usa bo quando vuoi esprimere in modo informale che non sai qualcosa o sei incerto. Un'altra parola che in realtà è una frase molto tipica. Che ne so. Che ne so. Il significato equivale a un'espressione informale per dire non lo so o non ne ho idea. Facciamo alcuni esempi pratici. Chi ha rotto il vaso? Che ne so. Non ero qui. Oppure dove andiamo questo weekend? Che ne so. Decideremo domani. Perché il treno è in ritardo? Che ne so. Forse c'è stato un problema tecnico. Utilizza che ne so per esprimere mancanza di conoscenza in modo colloquiale. Attenzione è una frase colloquiale che si utilizza molto tra amici e molto informale. Quindi non te la raccomando se devi per esempio parlare di maniera molto educata o anche molto formale. Un'altra frase interessante. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Attenzione a come suona fluidamente questa frase. Non vedo l'ora. Perché devi pronunciare la seconda n. Questo indica impazienza o grande entusiasmo per qualcosa che deve accadere. Facciamo alcuni esempi pratici. Non vedo l'ora di incontrarti di persona. Domani parto per le vacanze. non vedo l'ora. Non vedo l'ora che esca il nuovo film di quella serie. Usa non vedo l'ora quando vuoi esprimere eccitazione o impazienza per un evento futuro. E a proposito di entusiasmo sappi che sto facendo un grande sforzo per diminuire l'entusiasmo che ho quando parlo italiano solamente per aiutarti con una velocità che sia facile da seguire. Perché se dovessi parlare in maniera molto più entusiasta come piace parlare a me nella mia vita personale possibilmente parlerei molto più rapidamente e anche sarebbe poco facile per te comprendere il significato. Andiamo a vedere un'altra parola molto interessante una parola polisemica cioè che ha molti significati in tanti contesti. Dai dai può significare su su dai come un incoraggiamento oppure andiamo andiamo o anche muoviti dai muoviti o per favore e viene usato anche per incoraggiare qualcuno per animarlo può anche essere usato per esprimere sorpresa o incredulità. Facciamo alcuni esempi pratici. Dai andiamo al parco prima che faccia buio. Dai raccontami cosa è successo ieri sera. Un'altra frase hai vinto la lotteria? Dai non ci credo. Incorpora dai nelle tue conversazioni per raggiungere un livello di enfasi o di incoraggiamento in una maniera così naturale che diventa davvero colloquiale. Continuiamo con altre espressioni che puoi usare nelle conversazioni informali per sembrare ancora più naturale. Meno male viene usato per esprimere sollievo equivalente a per fortuna. Facciamo esempi pratici. Meno male che ho portato l'ombrello. Sta iniziando a piovere. Hai superato l'esame? Meno male. Ero preoccupato per te. Il traffico era intenso ma sono arrivato in orario. Meno male. Puoi usare meno male quando vuoi esprimere sollievo per qualcosa che è andato bene. Meno male si può scrivere sia in due parole meno male oppure una parola unica. Quindi non ti preoccupare se noterai entrambe le formule. Che spettacolo! Che spettacolo! Questo è molto interessante. Una frase colloquiale che si dice che spettacolo è un'esclamazione usata per indicare che qualcosa è fantastico, impressionante o molto piacevole e l'avrai anche notato è un'alternativa per esempio a che figata! Che figata! Significa praticamente qualcosa di wow fantastico. Esempi pratici. Hai visto il tramonto stasera? Che spettacolo! Questo piatto è delizioso. Che spettacolo! Il concerto di ieri sera è stato incredibile. Che spettacolo! Puoi utilizzare dunque che spettacolo per esprimere ammirazione o entusiasmo verso qualcosa di impressionante. In senso positivo ovviamente. Adesso andiamo a questa ottava frase molto usata. In bocca al lupo. In bocca al lupo. È l'equivalente di buona fortuna e la risposta tradizionale è crepi il lupo. Quindi se una persona ti dice per esempio a in bocca al lupo tu puoi rispondere crepi il lupo. Facciamo degli esempi pratici. Domani hai l'intervista di lavoro? In bocca al lupo. E la persona può rispondere crepi il lupo. Sto per iniziare la mia presentazione. E l'altro risponde in bocca al lupo. Hai una partita importante oggi? In bocca al lupo. Quindi usa in bocca al lupo per augurare buona fortuna in modo tipicamente italiano. Per esempio a volte per scaramanzia gli studenti usano anche altre formule. Però generalmente in bocca al lupo è una forma per augurare fortuna senza necessariamente diciamo tentare la sorte. È una cosa tutta italiana un po scaramantica ma ti spiegherò poi in futuro anche cosa significa questa parola. Andiamo a vedere adesso quest'altra frase colloquiale molto interessante. Inizia così. Mi sa che... mi sa che... e poi continua ok? Viene usato per esprimere un'intuizione, un sospetto o un'opinione ed è simile a mi sembra che... o penso che. Vi faccio vedere alcuni esempi pratici. Mi sa che oggi pioverà. Dovremmo portare un ombrello. E uno può dirlo anche pensativo no? Come diresti tu in spagnolo in italiano pensieroso. Mi sa che oggi pioverà. E uno può pensare... mi sa che oggi pioverà. Dovremmo portare un ombrello. Mi sa che Luca non verrà alla festa. Non l'ho ancora sentito. Mi sa che questo ristorante è chiuso il lunedì. Utilizza mi sa che... quando vuoi esprimere una supposizione o un'impressione su qualcosa. Questo è veramente molto potente. Ti suggerisco di impararlo perché è tanto tanto usato in Italia. Adesso andiamo a vedere un'altra parola molto interessante. Ti suggerisco di utilizzarla solo in ambito colloquiale. Però si usa molto. Cavolo. Cavolo. Che tra l'altro equivale ad un ortaggio. Quindi è una specie insomma di vegetale. Un ortaggio. Il cavolo. E però che significa? È un'esclamazione usata per esprimere sorpresa. Stupore. O anche a volte frustrazione. In altri casi ammirazione. Ed è simile a accidenti. O wow. Accidenti può essere sia in senso positivo come wow fantastico. Accidenti. Oppure accidenti come oh che cattiva fortuna. E questo chiaramente significa che devi prestare molta attenzione al contesto non solo linguistico ma anche e soprattutto alla tonalità della voce. Allo sguardo al linguaggio non verbale. Questo è veramente importante per noi italiani. Per esempio facciamo alcuni esempi pratici. Cavolo. Ho dimenticato le chiavi in macchina. E un altro esempio. Hai finito tutto quel lavoro in un giorno? Cavolo. Le ripeterò perché non sono facili. Poi la terza frase. Cavolo. Che bella casa che hai. Quindi andiamo a vedere la prima. Cavolo. Ho dimenticato le chiavi in macchina. Chiaramente puoi sentire dalla mia voce. Si tratta di frustrazione. La seconda. Hai finito tutto quel lavoro in un giorno? Cavolo. Come wow. Congratulazioni in un solo giorno. Sei molto competente. La terza frase. Cavolo. Che bella casa che hai. Con usa. Cavolo. Per aggiungere enfasi emotiva alle tue reazioni. Sia positive che negative. Ecco qua. Queste sono le dieci espressioni italiane che ti aiuteranno a sembrare realmente come un vero nativo. Ti catapulteranno in una dimensione dove anche gli altri ti daranno una certa amicizia, simpatia anche per il fatto che si vede il tuo tentativo di incorporarti anche di far parte di questa cultura così interessante e ovviamente l'integrazione è sempre più facile quando si usano espressioni da veri nativi colloquiali. Quindi veramente te le raccomando. Ricapitolando abbiamo visto espressioni come magari, boh, che spettacolo e molte altre. Ti incoraggio a iniziare a usarle nelle tue conversazioni quotidiane per rendere il tuo italiano più fluente e naturale. Se vuoi approfondire e imparare insieme a me a usare queste espressioni in contesti reali, facendo conversazioni pratiche, dialoghi della vita reale, contattami via whatsapp usando il link in descrizione o nella bio per avere maggiori informazioni sul mio corso individuale in videoconferenza. Nel corso praticheremo insieme tu e io in maniera privata queste e altre espressioni per renderti ancora più sicuro nel parlare italiano. Io ti ringrazio per aver guardato questo video, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Dai anche un like se ti piace, visto che comunque mi prendo un bel po' di tempo da dedicarti. Buona fortuna con il tuo italiano e noi come sempre ci vediamo presto. Alla prossima, ciao da Marco!